La pillola di tie break per andare a visionare quelli che sono stati i risultati nella serie C femminile, un turno d'oro per la Cardo Volley che si è presa il lusso di sconfiggere per 3-7-0, niente meno che la seconda forza del campionato Turinoia, completo nel quadro Sansevero Links 1-3, Bisceglie Foggia 3-0, Fides San Paolo 3-2, Terlizzi Bitonto 3-0, Noci Manfredonia 3-0, Palese Modugno 0-3. Marilena Petronelli, la classifica dice che Barletta e Terlizzi sono appaiati a quota 52, con Terlizzi in vantaggio per differenza set, che dire del turno passato e del prossimo che vi vedrà opposti al Bitonto? La partita che abbiamo disputato venerdì scorso, io credo che sia stata una delle più belle partite disputate questo campionato, abbiamo giocato veramente bene, nonostante la pressione psicologica di sapere che il 3-0 era l'unico risultato possibile che ci avrebbe consentito di continuare nella lotta play-off, perché come hai detto tu, noi siamo per i punti col Terlizzi, ma per differenza set, loro hanno una migliore differenza set e quindi in caso di parità ai play-off ci andrebbero loro e non noi. Io sono contenta della prestazione delle ragazze, hanno giocato tutte quante benissimo e sono contenta che questa prestazione così bella sia stata svolta in casa, dinanzi al nostro pubblico, in maniera tale che tutti possano aver visto quale è la forza dell'organico che siamo riusciti a costruire. Ma anche il pubblico, Marilena, io c'ero e posso dire che è davvero impressionante l'apporto che vi dà, sono incontenibili, veramente complimenti. Noi abbiamo cominciato, le prime partite di campionato eravamo veramente in pochi, poi pian piano con i risultati, anche grazie alla vostra trasmissione, alla pubblicità che siamo riusciti a fare, siamo riusciti a portare al palazzetto veramente tanta tanta gente. E adesso è bellissimo vedere le nostre partite, c'è un tifo splendido, ci sono dei ragazzi che ci seguono e ci seguono ovunque, anche in trasferta, a cui va ovviamente il nostro più grande ringraziamento. Andiamo a vedere il quadro dei risultati della B1 maschile che sancisce praticamente l'accesso ai play-off per Turi, non così per il Molfetta nonostante il 3-0 inflitto al Casoria, il Turi che invece è andato a vincere al tie-break per 3-2. Vediamo come Turi matematicamente insieme ad Atripalda ed Eurotech Gela sia ai play-off, nonostante un ultimo turno che ormai possiamo ritenere platonico, che vede il Turi riposare, mentre invece andiamo con la videata del prossimo turno, il Molfetta, andare a giocare una gara senza senso a Gela sul parquet della Eraclea. Ma qui abbiamo anche ospite francoattolico con il quale andiamo a festeggiare la salvezza ottenuta mentre si scorre naturalmente il quadro del prossimo turno. Abbiamo già commentato la trasferta della Cardo sul parquet del Bitonto, ma fondamentale sarà anche seguire le vicende del Terlizzi. Come si dicevamo, questa salvezza acquisita dalla sezione maschile della Cardola a Gristella. Complimenti Presidente. Complimenti a loro, complimenti ai ragazzi che hanno accettato questa sfida e ci sono riusciti con tanta passione. Quindi complimenti a loro. Dunque ci saremo con il prossimo numero di tie-break per commentare l'ultimo turno con i verdetti finali sia in C femminile che in B1 maschile. Da tie-break è davvero tutto, al prossimo numero. Grazie a tutti.